Da tutta Italia per un workshop in compagnia di Julian Stanzak, danzatrice americana, erede della celebra coreografa tedesca Pina Bausch, ospite dal 6 al 9 agosto dell'Associazione Emporio del Sale. Un progetto di seminario che coinvolge Forlin Popoli e Bresighella che ha attirato professionisti di lunga carriera e colleghi agli inizi del proprio percorso artistico. Durante la restenza di artiste di Julian Stanzak, negli spazi del gruppo Danza Forlin Popoli, saranno organizzate le lezioni rivolte alle iscritte al corso. Il 7 agosto, invece, al potere la Berta di Bresighella, si trarà un incontro aperto a tutto il pubblico dedicato alla carriera di Julian Stanzak e alla figura di Pina Bausch. Quest'idea nasce da un incontro proprio con Giulie, avvenuto tre anni fa con me, in cui ho partecipato proprio a una delle sue residenze e ho compreso quanto fosse importante quel tipo di lavoro, soprattutto per chi lavora sul movimento e per chi fa ricerca come l'Emporio del Sale. Ecco, presentiamo un attimo questa ballerina, viene dalla scuola Pina Bausch, chi è esattamente? Giulie Stanzak è in compagnia dall'86, per cui è una danzatrice storica della compagnia di Pina Bausch e tuttora è in compagnia e al suo lavoro di artista affianca un lavoro da insegnante, appunto formatrice alla Paolo Grassi di Milano, in workshop per residenze estive, un po' in giro per l'Italia e non solo, anche Europa e America. Come funzionerà questa residenza? Allora, la residenza, appunto, vorreva avere la forma appunto di una residenza, per cui ci sarà lezione tutto il giorno, dalle 9 alle 19, con una piccola pausa pranzo e con una parte, diciamo, di training e di preparazione nell'arco della mattinata, per poi sviluppare invece gli aspetti più creativi, personali e proprio di approfondimento nella seconda parte della giornata, almeno, questo è quello che di solito avviene, poi Giulia è un po' imprevedibile ed è anche questo il suo bello, quindi vedremo quest'anno che cosa ci aspetta. Questo avverrà negli spazi del gruppo Danza Forlimpopoli, proprio a Forlimpopoli, che è una grande scuola di danza con la quale collaboriamo da anni e che ci ospita per questa residenza. Vede 20 partecipanti, un po' da tutta Italia, più qualche affezionato che fa parte dell'Emporio. Nient'altro, questo è, sono quattro giorni, tre giorni e mezzo, concluderemo venerdì, probabilmente con un esito aperto a chi vorrà curiosare in questa residenza. Parliamo appunto dell'Emporio, come funziona, che cosa ha presentato appunto. Allora, l'Emporio esiste dal 2014, è nato a Faenza, dall'incontro mio e in realtà l'incontro era venuto già molto prima, è nato dall'amicizia tra me, Sabrina Fegli appunto, e Claudia Spadoni, che non è qui oggi, e voleva diventare un contenitore che partiva da un fuoco centrale, che era quello della danza, e principalmente delle danze popolari del Sud Italia, che io insegnavo già da diversi anni, per quelle che sono le mie radici, eccetera, eccetera. Volevamo partire da questo, come ho detto prima, da questo fuoco centrale, che era la tradizione popolare, per far nascere, attraverso la nostra collaborazione e le nostre competenze diverse, far nascere qualcosa di innovativo e che avesse a che fare ovviamente con l'arte del movimento, il movimento espressivo, eccetera, eccetera, la danza, perché poi alla fine si usano tantissime parole per parlare di una cosa che rimane la danza, e per farlo diventare, sì, qualcosa di, comunque, ecco, con un'identità molto forte, che è quella delle radici, dell'essenza popolare, che poi può incontrare il mondo, ecco. Ed è quello che sta succedendo adesso con la stessa Giulia, esatto. Oltre alla residenza ci sarà anche un incontro pubblico, come funzionerà? Allora, l'incontro avverrà mercoledì 7 agosto alle 18 al Podere L'Aberta di Brisighella, ed è un incontro voluto proprio per far conoscere Giulia il nostro territorio e allargare un pochettino il pubblico, poiché diciamo che lo stage si è riempito velocissimamente in una settimana e tiene appunto 20 partecipanti, proprio perché è un lavoro molto profondo e non è un lavoro che supera le 30 persone, diciamo. Per cui ci sarà la possibilità di sentirla parlare, di sentirla raccontare del suo lavoro, del suo incontro con Pina, dei suoi progetti attuali e futuri, nonché, piccola perla finale, concluderemo l'incontro apprendendo da lei stessa, che è proprio la portatrice di questa piccola linea coreografica, che è la Nelken Line, del famosissimo spettacolo Nelken di Pina Bausch, che sta portando in giro per tutta l'Europa, quindi finiremo con la Nelken Line sulle colline di fianco all'Aberta.